il natale di peppa è la notte di natale anche per oggi è tutto cari amiche qualche segno del lupo cattivo non ancora bene ora Abbiamo qualcosa che non avete mai visto! Un paperino incantato! Ehi, tu! Dammi il mio pennello! Che cosa stai costruendo, Pocoyo? Cosa è quello? E ora? Il giorno! Ma certo! Sono le zappe di un uccello! Vorrei dedicare il prossimo cartone a Paperino! Parla di qualcuno ben equipaggiato per volare! Il gabbiano modesto! Ah! You can hardly touch the ground Moving down a winding slide Take me physical for a ride Lunchtime 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 La baga Chi è il don Se volga di mal Navar We say the night Ah, per inciso, non preoccupatevi per quel lupo affamato! Sei aggrappata a un arbusto e non morirà di fame! Perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno! Uh... You can hardly touch the ground Moving down a winding slide Take me physical for a ride H... I... per inciso non preoccupatevi per quel lupo affamato sei aggrappata a un arbusto e non morirà di fame perché quell'arbusto fa delle bacche ogni autunno e ora il giorno ma certo sono le tappe di un uccello e ora il giorno sono le tappe di un uccello madame gazzella mi ha insegnato tutto quello che so e ora il giorno madame gazzella mi ha insegnato tutto quello che so oltre ai serpenti e ai coccodrilli ci sono i piragna dobbiamo fare qualcosa l'olita ha bisogno del nostro aiuto presto sbrighiamoci un momento devo approfittarvi scommetto che impazzirete per questo cartone di fianco al tubo per riempire la cisterna del dis... iniziamo col capire di che tipo di ruota si tratta questo mi sembra logico zico giago noi sappiamo di che ruota si tratta quella è una ruota rotonda che coraggio questo topolino lui sì che è un vero eroe se topolino venisse a trovarmi in fondo al mare ariel io sono una tua grandissima fan quando canti la tua son tutti i miei amici si sono dati appuntamento sono qui per dargli una mano a insegnarti come diventare un vero attore di cartoni animali scommetto che impazzirete per questo cartone già non è successo niente sembra che la ruota misteriosa non vada bene per nessun veicolo non è la ruota di una macchina agricola e nemmeno la ruota di una cariola o la ruota di una bicicletta nessuno ordina il decaffeinato come gaston mi sfugge il senso ironico tirate fuori il libretto degli assegni e le carte di credito per i mi mi fine antico proverbio cinese ciao mamma vuoi stropinarmi la schiena maxi sveglia figliolo sono arrivati comincia lo spettacolo maxi ma papà per favore tutti i miei amici si sono dati appuntamento qui per dargli una mano a insegnarti come diventare un vero attore di cartoni animali non fa per me papà è ora di far vedere al mondo intero che mio figlio ha preso tutto dal suo vecchio mi sto sentendo male ehi dove vai torna subito qui che cosa stai facendo orsetto volevo prendere quel piumino che è caduto lì sarà anche vero che il pane arriva da lì ma è nel mio pancino che va a finire cus cus il detective del nordafrica naranja e bravo il mio Pluto paramo un po' un po' uno uno Grazie a tutti